Siamo a metà spettacolo, Gianvrango Iannuzzo attualmente sul palco che fa divertire e far davvero sorridere tantissime persone qui presenti, tantissime persone che hanno aderito e hanno accettato il mio invito. San Galoggio l'abbraccia alla valle ormai è diventata davvero una grande realtà. Sono orgoglioso sempre dei miei concittadini e li ringrazio di cuore. Soprattutto ringrazio sempre l'architetto Parello che ha tanta stima e tanto onore nei confronti dell'associazione Tammura di Girgente.